salve ragazzi veramente grazie grazie di cuore a tutte le persone che mi sostengono sul mio canale youtube cliccando proprio sulla parola grazie quando voi scenderete sotto il miei filmati troverete le parole iscriviti commenta scarica e troverete anche la parola grazie basta cliccare sopra e fate la vostra donazione vi ringrazio tanto e vi aspetto un abbraccio grande le gambe sono aperte larghe mi raccomando il nostro ginocchio scende verso i nostri taloni questa è la corretta posizione apriamo molto le ginocchia stendiamo la colonna vertebrale se qualcuno vuole può anche utilizzare le braccia ok se invece qualcuno già allenato cerca di non spingere e attivare molto muscolatura posteriore della schiena svuotiamo la pancia completamente respira prendiamo l'aria fresca dal naso e buttiamo fuori con la bocca prendiamo l'aria fresca dal naso buttiamo fuori con la bocca inspiriamo l'aria fresca dal naso espiriamo con la bocca piede destro va sotto 1 sinistro 2 destro su sinistro su 1 2 3 4 1 2 3 4 e ancora 1 2 3 4 metto il piede destro sinistro sto giù le braccia dietro dentro salgo apro dietro dentro salgo apro dietro dentro salgo apro la respirazione l'aria la butto fuori sto giù la testa il profilo destro il profilo destro il profilo destro il profilo destro dietro a sinistra e in basso sollevo la testa l'orecchio va a destra sale a sinistra sale giù la testa il profilo sinistro dietro a destra e in basso sollevo 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 a sinistra torno a destra torno prendo la sedia appoggio i piedi sopra curvo la schiena spingo la sedia torno crescendo vado a destra mi rilasso giro la mano 1 2 3 4 torno prendo l'aria a sinistra torno prendo l'aria a sinistra la mano gira 1 2 3 4 torno cresco spingo e spingo torno crescendo vado giù 2 braccia 1 a sinistra 2 a destra 1 a sinistra 1 a sinistra 2 torno spingo e spingo e spingo l'aria torno sollevo a destra 1 salvo a sinistra 2 guarda lo specchio avanti guarda avanti solleva avanti solleva avanti solleva prendi la sedia spingi 4 volte fuori torna torna inspira aumenta 2 torna inspira aumenta 3 torna inspira aumenta 4 torna inspira la gamba sinistra va sopra si abbassa stendo cerco di avere la gamba dritta la mano sinistra prende la gamba la raddrizza ballerina dritta apro il ginocchio giro a destra guardo la mano prendo il ginocchio stiro 2 giro schiaccio gluteo schiaccio il gluteo schiaccio il gluteo schiaccio il piede destro 3 sto salendo non sto solo girando 4 di più torno prendo la gamba la caviglia tiro su 1 aumento 2 aumento 3 aumento 4 incrocio mi aggiusto mi aggiusto giro prendo la sedia abbasso le spalle vado giunto col pavimento sollevo il braccio prendo la sedia tiro torno vado verso le gambe mi lasso salvo col pavimento di più preparato scivolo appoggio il braccio apri il petto il collo prendi la sedia sali tirati su vai verso la gamba svuota saliamo dritti stop semplice cambio sollevo la gamba se posso e apro preparo stop la destra decido la mano destra la mano destra prende la caviglia stendo la colonna vertebrale ballerina giro a sinistra cresco prendo il ginocchio schiaccio molto gluteo 2 torno torno inspirando aumento 3 torno inspirando aumento 4 torno su prendo la gamba destra decido dove la tiro 1 2 ballerina 3 ballerina 4 torno incrocio mi aggiusto mi aggiusto sopra la sedia chiudo le gambe giro prendo la sedia uso molto le braccia per girare completamente avanti scendo appoggio il braccio su prendo tiro mi metto a sedere vado giunto fuori le gambe giro di più via scendo appoggio sollevo prendo salvo gira prima gira 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 poi scivo sali e semplicemente apri e abbassa andiamo su due gambe chiuse insieme inspiro prendo il gomito destro vado appoggio il gomito sopra la sedia stop stendo la colonna vertebraio piego le gambe uno stendo inspiro piego due stendo inspiro piego tre stendo inspiro piego quattro stendo inspiro mi giro giro pio giro preso giro mi giro 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 le mani giro le braccia giro direstico giro giro di destra giro le mani sul pavimento giro a sinistra giro a sinistra sul pavimento le gambe chiuse insieme torno avanti mi chiudo giù salvo curvato risucchio aumento 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 trinta stop subo il gomito sinistra salvo 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 appoggio il gomito sopra la sedia stendo la schiena sedia qua per le gambe stesse piego le gambe uno stendo l'inspiro piego due stendo l'inspiro piego tre stendo l'inspiro piego quattro stendo l'inspiro giù le braccia vado a sinistra cammino giù 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 gira 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 giù la testa a destra gira 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 torna in centro scendi di più sali curvando risucchia ancora ancora aumenta 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 molto molto di più la gamba destra appoggio sopra in centro 90 gradi sale talone uno scendo inspiro sale due scendo giù le braccia tre scendo quattro scendo vado avanti prendo la sedia la tiro forte giù la testa salgo curvando curvando ultima la testa chi vuole fa la variante stende la gamba martello vado avanti prendo la sedia mi chiudo e spiro salgo curvando risucchio la pancia sulle braccia unisco le mani sul talone sinistra e rimango uno due tre quattro scendo avanti giro a sinistra giro il piede destro appoggio sopra la sedia due gambe stese vado giù mi prendo la gamba sinistra mi chiudo e spiro la via salgo curvando sulle braccia aprendo prendo il polso sinistro sinistro vado a destra tiro torno prendo il polso destro vado a sinistra uno torno apro le braccia a basso chiudo due gambe insieme giro avanti preparo la base avvicino la sedia piego la gamba sinistra appoggio in centro il bacino è pari non è storto pari giù le braccia alzo talone destro uno scendo prendo l'aria la butto fuori prendo l'aria la butto fuori prendo l'aria la butto fuori prima cresco poi vado avanti prendo la sedia e tiro più fuori che posso svuota il palucino sali curvando stendo la gamba martello vado avanti prendo la sedia mi chiudo e spiro salvo curvando stendo il tuo glute risucchio la pancia ultimo la testa sulle braccia chiudo le mani insieme sul palone destro uno due tre quattro abbasso apro le braccia giro preparo la posizione il bacino è pari scendo mi prendo la gamba destra mi chiudo e spiro l'aria salvo curvando stringo il glute mi subio la pancia stringo molto il glute apro le braccia prendi il polso destro piegati a sinistra molto a sinistra torna prendi il polso destro piegati a destra molto torna apri le braccia chiudi due gambe insieme giriamo apriamo le gambe come l'argezza delle sedia spostiamo le braccia avanti le mani sopra la schiena è dritta la pancia è dentro curva la schiena uno stendi allunga sulla testa in alto curva due cambia in marca curva curva risucchia 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 cambia in arca allarca le dita delle mani curva quattro e su giù le braccia prendi i taloni chiudi 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 sulla testa sal con la schiena dritta su giù la testa scendi fuori la barriera non toccare le gambe sal incurvando risucchia la pancia allunga allunga le mani sopra la pancia chiudi gli occhi percepisci la tua respirazione l'aria fresca entra dalle narici l'aria tiepida esce fuori con la bocca visualizza un fiore che stai annusando senti il profumo visualizza una candela bianca che la spegni visualizza il fiore senti il profumo annusa dal naso senti e visualizza la candela e spegni la continua questo l'esercizio molto tranquillamente tutto il tempo che desideri l'esercizio l'esercizio la l'esercizio